Salve a tutti ragazzi, io sono Abat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Nabil Fekir nella sua versione Team of the Season mi raccomando come sempre questa serie in collaborazione con i ragazzi di The Street trovate i link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram di lasciare un bel like e iscrivervi al canale noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi Let's go! Partiamo come di consueto dal costo che si aggira attorno ai 140.000 crati su Play, 120 su Xbox e 150 invece su PC per un giocatore con 4 stelle skill, 4 stelle di pede debole, work rate alto normale per quanto riguarda il fisico abbiamo 1,73 m di altezza, 75 kg, body type, stocchi, ibridabilità che è ottima per quanto riguarda il campionato di Liga Santander abbiamo ampie possibilità per andare ad inserire in squadra per quanto riguarda la nazionalità, la nazione top per quanto riguarda foot, ovvero quella francese e anche la squadra di appartenenza qualche link ce lo fornisce da quello di un possibile Alex Moreno a Canale Stotz a un possibile Joachim Captain che potreste avere all'interno del club per cui secondo me questo fakir è altamente ibridabile il mestiere di intesa più consigliato per a mio modo di rivedere ci sta un bel motorino per andare a aumentare la velocità scatto e l'agilità e comunque anche un po' il controllo di palla per andarlo a portare con il massimo valore disponibile e anche il passaggio per quanto riguarda invece le caratteristiche di questo fakir dove lo andrei ad utilizzare? Personalmente lo utilizzerei come seconda punta può essere arretrato ancora come trequartista, assolutamente sì a mio modo di vedere può fare la seconda punta per via del fisico molto molto buono nonostante abbiamo 1,73m di altezza per via del body type e per via comunque dei valori di forza fisica agilità, equilibrio, non lo spostano così facilmente questo fakir riesce a proteggere bene il pallone quel 90 di stamina gli permette di correre tutti i 90 minuti e soprattutto perché potete andare a sfruttare a pieno secondo me la velocità di fakir sui primi metri un'accelerazione top, potente per i valori di forza come abbiamo detto prima e comunque avendo 99 di accelerazione parte bene sui primi metri sul lungo tende un po' a farsi recuperare vuoi per il 92 di forza vuoi anche e sicuramente la cosa più impattante nella velocità scatto di fakir nella problematica diciamo così nella velocità sul lungo chiaramente non al pari dell'accelerazione il body type stocky è uno dei body type peggiori per la velocità sul lungo però non è che si faccia recuperare in tempo 3 metri però va abbastanza rallentare rispetto a comunque ripeto la velocità che possiamo avere sui primi 2, 3, 4, 5 metri rispetto a comunque in campo aperto dove dobbiamo saltare l'uomo in velocità in più metri rispetto a magari degli spazi un po' più ristretti altro contro quindi il body type che risulta arma a doppio taglio ottimo per quanto riguarda il proteggere il pallone arma che si rivela un po' contraria invece alla velocità scatto abbiamo una concorrenza con una propria versione ovvero quella food birthday e quindi la mancanza della quinta stella di skill ne parleremo un po' più approfonditamente di quale vi consiglio maggiormente però la differenza non è così ampia rispetto a appunto quella food birthday principalmente abbiamo una nota a favore ampiamente a favore della sua versione 90 che è la quinta stella di skill e l'aumento delle stats a favore del tots parleremo dopo ripeto di quale vi consiglio maggiormente comunque a mio modo di vedere può essere arretrato come trequartista per il fatto che abbia una visione abbia un passaggio comunque top che gli consente tranquillamente di fare l'ultimo passaggio di costruire comunque la manovra anche di saltare l'uomo nel momento che abbiamo un ottimo controllo di palla la reattività nello stretto non è eccezionale è migliorata a mio modo di vedere rispetto alla versione citata prima quella food birthday è comunque molto preciso unito tutto all'equilibrio e alla forza fisica riuscite a farlo girare anche senza utilizzare le skill comunque si riesce a far girare questo fakir abbiamo anche un ottimo tiro dal momento che comunque da dentro da fuori area di rigore riesce a centrare la porta e essere molto molto pericoloso ha un'ottima finalizzazione dato che ricordo abbiamo 98 come valore di freddezza e si sente tutto in game utile anche per fare l'ultimo passaggio a mio modo di vedere è un po' più consigliato come seconda punta come abbiamo detto prima anche punta singola in realtà potrebbe farlo se vi piace una punta un po' più rapida un po' meno forte fisicamente nonostante abbiamo comunque sì un body type stock ma è un metro e 73 quindi non è proprio secondo me indicato per fare la punta non è proprio indicato per fare la punta però può essere anche una soluzione ripeto lo consiglio maggiormente come seconda punta per via del fatto che comunque il fisico si va a sentire molto meno in termini appunto di altezza però andate a sentire tutta l'accelerazione e andate ad utilizzare molto bene i valori di freddezza e di tiro soluzione comunque anche come trequartista per via del fatto che ha un ottimo passaggio arrivando al giudizio su questo Nabil Fekir cosa ne penso? lo consiglio? non lo consiglio? partiamo già come abbiamo fatto spesso dal voto è un 8 comunque è consigliato il rendimento in game è ottimo altamente imbridabile secondo me è una delle opzioni più interessanti della Liga Santander con un budget naturalmente medio-basso che comunque è una delle migliori opzioni secondo me per comunque un trequartista avete l'alternativa di Nisco per esempio con link diversi con caratteristiche un po' diverse un po' più resiliente fisicamente per il fatto che comunque è un po' più alto per il fatto che abbia la quinta di skill questo Fekir a mio modo di vedere è un po' più adatto per essere giocato come seconda punta quell'isco è proprio un trequartista state attenti diciamo alla tipologia di giocatore che volete andare ad utilizzare e il ruolo dove l'andate ad utilizzare abbiamo detto prima concorrenza con il foodbird e quale delle due vi consiglio maggiormente? a mio modo di vedere siamo più o meno sullo stesso livello e infatti la differenza di prezzo non è neanche così elevata abbiamo circa un 30-40 mila crediti come differenza di prezzo che per una versione Team of the Season non è neanche così tanto quel foodbird day a mio modo di vedere può risultare consigliato maggiormente consigliato nel caso vi piaccia utilizzare le skill e sappiate utilizzare siate dei giocatori che utilizzano abbastanza spesso la quinta stella di skill dal momento che la differenza di statistiche di rendimento in game non è così elevata diciamo da giustificare la mancanza della quinta stella di skill del Team of the Season abbiamo sì un rendimento in game che è migliore rispetto al foodbird day ma se non utilizzate le skill diciamo sono utilizzate magari l'elastico sono utilizzate la quinta stella di skill allora diciamo che il rendimento in game è differente si sentono gli upgrade cioè se sapete utilizzare le skill quel 90 non è così distante da questo Team of the Season per cui diciamo ci sono queste due condizioni come voto appunto gli do un 8 si mangia quel voto praticamente dal momento che quel foodbird day è una concorrenza abbastanza interessante per utilizzare una delle due versioni di Fekir ripeto in base al vostro gioco quale dei due si abbina meglio al vostro stile di gioco comunque può risultare consigliato per via del buon rendimento in game dell'ibridabilità top e anche comunque del costo che non è neanche del rapporto appunto qualità prezzo che non è neanche così malvagio e voi cosa ne pensate siete d'accordo scrivetemelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di The Street trovate il link in descrizione con questo video abbiamo terminato qui da Bata è tutto ciao 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 ciao